Berga YouTube, questo è l'appuntamento con le 5 mosse del latino con Livio ed è in particolare il sesto dei video che sto realizzando dedicati a passi di quest'autore di epoca augustea e ci occupiamo in particolare, tutti i video sono incentrati per lo più sui libri 32 e 33 che sono quelli in cui Livio racconta delle guerre dei romani in oriente, le 5 mosse sono quelle indicate sotto, possiamo partire. Come certamente avrai già potuto appurare in questa serie di video trovi già evidenziati e sottolineati i termini più importanti, parlo di termini in realtà mi riferisco ai verbi perché nella prima fase l'analisi del periodo è importante riconoscere i verbi, maturandi che evidentemente concorda con itineris per il fatto che concorda è un gerundivo da maturo maturare e insieme a causa fra l'altro costituisce una finale implicita. Demissis è un participio perfetto passivo da demitto demittere che concorda con nubibus mentre deterritus è un participio perfetto passivo da deterreo che concorda con il soggetto filippus. Iussit è il mio verbo principale da iube iubere perfetto indicativo terza singolare, ferri è un infinito presente passivo. Dopo il punte virgola abbiamo un ocecaverat più che perfetto attivo terza singolare, cernerent congiuntivo imperfetto come anche turbaretur con la differenza che turbaretur è un congiuntivo imperfetto passivo. A questo punto insieme affrontiamo due mosse, dico insieme perché per questioni di tempo, per fare in modo che il video non sia lunghissimo, ho pensato uno di segnare già i connettivi e due, man mano che procedo con l'analisi della frase, cioè analizzo frase per frase, di procedere anche con la costruzione e quindi andiamo con ordine. Filippus, abbiamo causa itineris maturandi che è il mio costrutto finale come dicevamo, poi dobbiamo prendere subito deterritus, anzi nihil deterritus dove nihil indica il per niente, può avere valore avverbiale o un complemento di limitazione, non spaventato in nulla. Poi vediamo, non spaventato direi da che cosa? Queste nubibus mi stanno bene come ablativo di causa efficiente e questo demissis va subito accostato, nubibus demissis in terram è il complemento di motta luogo post in brem. A questo punto l'azione che fa Filippo è di iussit ferri signa, perché iubeo è costruito sempre con l'infinito, ma è infinito passivo quando manca la persona a cui l'ordine è rivolto. Poi c'è un sed che ho già segnato come congiunzione, tam deinsa caligo ocecaverat diem ut. Attenzione che il nostro fulcro è in questo tam e poi ut, il fulcro del discorso, perché quel tam davanti all'aggettivo tanto, tanto densa, tanto fitta, mi dice che ci sarà nei paraggi un ut consecutivo e infatti c'è ut neque, poi questa è anche la conferma che ut non ut neque è il modo in cui si esprime la forma negativa, ut neque signiferi cernerent viam e ce l'abbiamo qua, nec milites, sottinteso cernerent, se preferisci lo scriviamo, e signa come accusativo. Agmen, che cosa fa Agmen? Turba retur, e allora turba retur è sempre un congiuntivo imperfetto, fa parte della consecutiva, e vagum ad incertos clamores velut errore nocturno. E a questo punto, per la mia proposta di traduzione, beneficio del fatto che ho già sistemato i termini nell'ordine in cui andrò a tradurli. Dunque, filippus, causa maturandi tineris, filippo per affrettare la marcia, nihil deterritus, per nulla spaventato nubibus, dalle nuvole demissis, cadute, scese, in terram, sulla terra, post imbrem, dopo la pioggia, filippo comandò di mettersi in cammino, tenendo presente che l'espressione signa ferre, come signa muovere, vuol dire muovere le insegne, quindi levare il campo. Sed ma, una nebbia così densa, aveva offuscato ocecaverat diem, la luce del giorno, meglio che il giorno, che né i vessilliferi vedevano la strada, signiferi cernarent viam, né i soldati vedevano, distinguevano le insegne. L'intera colonna, possiamo mettere una congiunzione, l'intera colonna, o semplicemente agmen, la schiera, turbaretur, era turbata, era sconvolta, vagum ad incerto sclamores, vagando dietro grida confuse, velut errore nocturno, come nel vagare notturno. Ecco, questa è la proposta di traduzione, ma dobbiamo ancora passare per un'ultima mossa, che è quella della verifica del senso, che costituisce un passaggio importantissimo, anche se l'ultimo, perché ti mette di fronte alla necessità di chiarirti le idee, proprio sul significato di quello che hai tradotto, che deve stare in piedi con un'espressione un po' semplice, deve essere congruente dal punto di vista logico. Che cosa ti conviene fare? Ti invito a ripercorrere il contenuto del testo formulandolo con parole tue. Allora qui si parla di Filippo, che non ha alcun timore per il fatto che dopo la pioggia siano scese sulla terra delle nubi, dà l'ordine di muoversi, ma in realtà contravviene a questa sua volontà il fatto che si diffonda una nebbia molto fitta che impedisce ai suoi uomini di vedere la strada oppure le insegne e anzi l'intero esercito si trova a mal partito, si sentono soltanto delle grida, ma sembrava di muoversi di notte. Questo dunque era il video 6 delle 5 mosse del latino con Livio. Come dico sempre, se hai qualche proposta di chiarimento o qualche domanda in particolare di natura grammaticale puoi lasciare sotto tra i commenti l'indicazione e altrimenti intanto ti invito, nel caso non l'avessi ancora fatto, a fare un giretto tra i video del Verga YouTube e semmai ad iscriverti. E anche un like, non fa male nel caso che la proposta di lavoro ti sia apparsa adatta e proficua. Bene, intanto buon lavoro!